E' di tre sconfitte e una sola vittoria al bilancio delle formazioni alessandrine impegnate nel 33esimo turno del campionato di calcio di Serie D. A cinque giornate dal termine, l'unica formazione che può vantare una classifica tranquilla è il Dertona, dodicesimo con 43 punti a più 9 sulla zona play-out. I Leoncelli nel weekend sono stati battuti per 1-0 dal Borgossesia al termine di una gara sfortunata e decisa da un tiro deviato nella propria porta da un giocatore bianconero. Chi naviga in acqua e decisamente meno tranquille sono le altre squadre della provincia che al momento occupano gli ultimi tre posti in graduatoria. L'Aqui è terzultimo con 24 punti dopo la sconfitta per 1-0 sul terreno della Pro Settimo giunta in extremis con la rete decisiva segnata tre minuti oltre il novantesimo da Sillano. L'unico sorriso di giornata arriva da Castellazzo che vince 2-1 contro il Bra e abbandona l'ultimo posto in classifica. Dopo un rigore siglato da Rossè nel primo tempo gli ospiti hanno pareggiato a 5 minuti dal termine con Ferrario ma al novantaduesimo Rossi sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha regalato ai suoi un successo importantissimo per continuare a sperare in una miracolosa salvezza. Ricordiamo che retrocedono direttamente le ultime due squadre in classifica mentre la terzultima che al momento è l'Aqui con tre lunghezze di vantaggio proprio sul Castellazzo potrà disputare gli spareggi per evitare di scendere in eccellenza. Mantenendo un distacco non superiore agli otto punti rispetto alla quindicesima in classifica. Che ormai le speranze le abbandonate da tempo è la novese e da domenica ultima è destinata alla retrocessione. I novesi sono scesi in campo con una formazione composta da giovani che non hanno sfigurato di fronte alla Fezzanese vittoriosa comunque per 2-0.